Un saluto a tutti e benvenuti a questo primo appuntamento con Heroes in General nella serie Geppino e il cecchino. Come sempre ringrazio i moderatori, i moderatrici, gli amici e le amiche del canale, i sostenitori e tutti coloro che si iscrivono ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate e troverete il link. Oh, K.Rogero. Allora ragazzuoli, cominciamo questa nuova avventura. Allora oggi vestiremo i panni di un fante. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, poi faremo un po' di passaggi intermedi. Andiamo. Gli diciamo un po' l'audio. Ecco qua. Perfetto. Cominciamo a riscaldare le canette. E i canetti. E tuzzi e tuzzi. E tuzzi e tuzzi. Ok. Allora. Allora, diamo un pochettino. Ok, vai. Iniziamo la nostra scutuleata. Allora, prendiamo il... no il camion non serve ma forse sì c'è qualcuno che scrive le mesi da logistica 1 è in diretta streaming heroes e generals geppino il cecchino s gaspari 04 e il dan buongiorno a te carissimo gaspari grazie come sempre di essere passato nel canozzo questa mattina siamo molto agguerriti s gaspari 04 come stai tutto bene carissimo tu come stai innanzitutto e grazie ancora come sempre come sempre sempre di essere qui allora qua vediamo un po mi sembra deve visto qualcosa muoversi oggi siamo in modalità gippi s gaspari 04 tutto bene anche oggi sei a caccia eh sì mi porta avanti un po di mission cina qua beh queste è un multiplayer devo mandare avanti un po la squadra fine settimana qua sto vedendo un pochettino la situazione s gaspari 04 ha suonato saragipo saragipo per 0 io sono inizi che è in giù allora qua che sto andando oop c'è qualcuno dove sta Ah, eccolo. Ci sono i nemici. Ora si mimetizzano perché il colore della loro uniforme è quella arancio gris. Insomma, quello là. Oh, cacchio! Sono nella... Nella Elmi zona. Dove praticamente fa... S Gaspari 04. Oggi non c'è l'omino di pan di zenzero in basso ADX. Ah, e beh, si vede che è andata a fare una vacanzetta. Zenzero... Gengerozzo, dici? Dammarichi Gengerozzo. Vabbè, poi vedo dopo con calma. Adesso... Doppla! Di fuochi d'artificio! Oh, cacchio! Oh, cacchio! Oh, cacchio! Ecco qua! Adesso devi scendere! Adesso devi scendere! Adesso devi scendere! Hop back! Allora, allora, allora... Ritorniamo! Meno male che non sono comandante di squadra, così... Non mi rompono le scatolette di Simental! E salutiamo Mr. Simental! E tutti, e tutti! Oh, cacchio per me! Cacchio per me! Oh, cacchio! Cacchio per me! Cacchio per me! Eccolo lì Vai, fregato. S. Gaspari 04. Mi sa che sto bot non sa leggere destra abbreviato che legge come lo vede scritto, sgaspa 1 lol sgaspa 1 lol sgaspa 1 lol cmq ero passato per un salutino. Ah, grazie per essere passato. Ormai in effetti questo è il bot, diciamo. Fermus 08. Ciao a tutti gli aiutalo vipenda. Qui mi dico buongiorno carissimo. Scusate se non sono molto attivo. S. Gaspari 04. Ehi la Mauro. Buongiorno a voi ragazzuoli. Fermus 08. Grazie mille per ieri dallo. Ah, figura di ferme, lo faccio con piacere anche perché tu fai altrettanto con me. Chiocciola sgaspari 04 ciao. E' andata proprio di lusso. Amma mia. C'era mancato proprio che mi facevano la pelle. Allora, vediamo un po' se riesco a prendere quella posizione là. Oh, semplici ultimi qua, nei dintorno. Fermus 08. Ieri sera in live eravamo in 12. Ottimo secondo te dallo. Ottimo direi. Quando è sempre più di zero, è sempre un ottimo risultato a prescindere. Vuol dire che comunque le persone apprezzano il tuo modo di fare. Insomma si divertono. E questa è la cosa più importante. Che si divertano le persone. Grande fermus. Ecco qua. Fermus 08. Hanno sistemato i server su farming. Ah, ottimo. Almeno così se si deve fare un crossplay, lo si può fare tranquillamente. Eh, perché l'ultima volta con te è stato un bel macello. A parte due mod, poi non ho capito per quale motivo non mi ha fatto entrare. Boh. C'ho un bel coltellino da cucinare qua. Oh. Vai, vai. Abbiamo conquistato una posizione. No. Vondava. Fermus 08. Stasera porto un gioco tosto in live. Ah, cosa porti di bello stasera? Oh cacchio, ne ho visto uno, ne ho visto uno. Fermus 08. È una sorpresa. Ah. Questa è un bot? Non ci metterò il bar. Ecco. Fermus 08. Oggi pomeriggio austriamo. Ah, no. Io oggi pomeriggio non so se ci sono. Vatti, mi sono messo un po' più stamattina. E oggi, diciamo così, vediamo un pochettino. Eventualmente, se ci sono, vengo a farti... Vengo a farmi un salutino. Vengo a farti un salutino, diciamo. Passo dalle tue parti. Scusami se non ti do retta, ma qua è una situazione un po' in garbuglia. Ho scelto proprio l'arma più complicata da gestire qua. È vero che è un po' più precisa, però... Diciamo che è anche quella un po' più letta. Ha un ratio di fuoco lento e quindi... Mi tocca essere precisa. Oh! Ci abbiamo... Ha fatto un po' di drift. Allora, andiamo qua. Su campanile, no, non c'è nessuno. Ok. Quasi, quasi. Io andrei... All'attacco c'è in giù per difendere la pace. Non è molto più sancante. Andiamo qua. Oddio, non sei riuscito a cambiare questa. Eccolo là. Vai. Fermus 08. Oggi porto Dark Souls. Ah. Quello è bello a tostare io là, eh. Ovviamente molto, ma molto. Complication. Anzi, complicated. Eccolo. Bello. Bello complicaticcio. S. Gaspari 04. Chi ha fischiato? Eh, io. Insieme... Va, che faccio a dire. Allora, questi qua sono dei bot. Perché non mi hanno... Ancora attaccato. Ho me già. Diciamo che... Attaccano, ma... Ma adesso sono sotto attacco. Fermus 08. Non so se hai notato, ci sono degli autobus fantastici. Eh, soprattutto quello là elettrico, infatti, veramente è bello. Notavo, notavo. Comunque il citaro è bello, eh. Soprattutto quello là elettrico che hai preso tu. La volta scorsa quello era veramente... ...altissimo livello. Mi sono scampato. Una situazione poco piaciuta. S. Non so se ci sono. Però... Comunque se eventualmente è una cosa... Fermus 08. Io mi faccio usare... Lo guido anche in realtà citaro elettrico. Ah. Il citaro è un brand molto, ma molto... Conosciuto. Cioè, conosciuto. È abbastanza diffuso, insomma. Ora, non so se non ricordo male, pare che la maggior parte dei bus di linea, quelli del servizio pubblico, se non mi sbaglio, sono proprio citaro. Fermus 08. Che a volte non mi permette di venirti a seguire. Infatti l'altra volta... Iero... Era venuto... Avevo provato ad entrare in partita. Cioè, meglio. Sono venuto su Twitch, però erano le due e mezza, credo. E quindi... Non sono riuscito a... A venire in partita con te. Infatti... Poco dopo hai... Hai chiuso... Hai chiuso la live. La live s. Oh, ecco qua. Allora, 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 allora. Ti ha un po'. Il paracadutista. Ah, sì. Aspetta, mi pare che c'è un altro... Par... Eccolo qua. Cambiamo... Specialità. Fermus 08. Ho notato che facendo tre live mi stanca tantissimo. Andrea 80 Biella. Un grande saluto. Andrea Garissimo. S. Gaspari 04. Chiocciola Fermus 08 oltre al Mercedes Citaro. Guidi anche altri Pullman. Allora, allora... Andrea 80 Biella. Chiocciola Fermus 08 Sauti. Andrea 80 Biella. Saluti. Fermus 08. Chiocciola S. Gaspari 04. Sì, anche Iris Bus. È un buon giorno, voglio, è qui in semplice... Fermus 08. Chiocciola Andrea 80 Biella, ciao. Guidi, tutto a posto, buongiorno Andrea. S. Gaspari 04. Ehi, Andre. Sì, grus, Andrea. Adesso parlano pochi napolitano, parla piano piano, così mi capisci. Comunque, guidi, siete appassionati. Eurotrack Simulator 2 qua giù, passato ovviamente un tuo canale, l'amico Andrea Biella 80 qua giù, perché un fine settimana organizza i convoggi. E così va divertito pur. E va spassata, diciamo così. Voila. E comunque in questa situazione, che oggi va a mai scritto già film. Sound Alerts. Fermus 08 ha suonato Totò. Funicolare senza corrente. Miseria e nobilità. Per 0 bits. Miseria e nobilità, sì sì. Grande film, ragazzi. Che vi invito ad andare a guardare perché è qualcosa di spettacolare. Un bel film, non è noioso fra le altre cose. E quindi, guaiù, ne vale assolutamente la pena. Vi invito. Mi pare che, se non ricordo male, in tv, qualche altra occasione l'hanno già passato il film. Quindi, insomma, bel film. Ci sono tante battute simpatiche. S. Gaspari 04. Vabbè, sto bot sbaglia completamente la pronuncia del mio cognome. Lo pronuncia con due R al posto di una. È tale quale a quel simpaticone di Rovimel81. Eh, ma infatti, no, ma quelli sono i bot. E poi fra l'altro queste è Microsoft e non so che cosa. E quindi, di conseguenza, non sono quei bot. Non sono quei bot particolarmente ottimizzati. Infatti, questi sono quelli lì che fra le altre cose trovi a gratis. Non c'è tanto quello che ci offri. A gratis. Senza pagriscio. Vabbè, dai. Allora, adesso. Prendiamo. Cambiamo. Allora, diamo un po'. Ecco qua, vai. Noi ce li andiamo a... A fare un po' a distanza. Ora si fa su serio. Ora siamo seriosi. Papara, le zuppe pambagnate. Se non le zuppe, le pambagnate in là. Yes, c'è chi no ti c'è magna. Wunderbar, wunderbar. Allora, diamo se c'è qualcuno là. Questo. Andrea Ottantabiella. Vado a Magna. Oui, Andrea. Grazie ancora per essere passato. Andrea Ottantabiella. Lerg. Se non ci sentiamo in questi giorni buon fine settimana, naturalmente. Poi ci si becca da te. Chiocciola Andrea Ottantabiella. Bon appétit. Bon appétit. E E quindi stavo dicendo, Gaspari, che questi bot qui ovviamente non sono, diciamo così, bot, questi, questi text to speak. E al momento non ho trovato una buona alternativa. Battista Mattino. S. Gaspari, 0, 4. Adesso vado, ragazzoni. Ci vediamo alla prossima diretta. Ok. Andrea Ottantabiella. Chiocciola S. Gaspari, 0, 4. Andrea 428. 428DN Andrea 428DN Otti Clappi Otti Clappi Eguis 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 Eguis. Grazie mille. Buona continuazione di giornata. Ti è inchiuso, Macci. Grazie, Gaspari, naturalmente. Ragazzoni, allora, facciamo un... S. Gaspari, 0, 4. Ok. Allora, io vi facciamo un piccolo shootout al nostro Gaspari che è sempre presente. Promozione. Messaggio promozionale. Mi raccomando, passate nel canalozzo del miticozzo. Attivate le campane all'ozze. E tu, tu, yes, yes. Facciamo una bella sbattudella di mani. Vediamo se ci riusciamo. Allora, dove sta? Ecco qua. Allora, grazie ancora al mitico Gaspari. S. Gaspari, 0, 4. Sì, ehi, c'è, 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 c'è. Come diavolo ha pronunciato sti sticker. Soundalerts. Da blogistica uno ha suonato applausi per 0 bits. Oh, è quello ogni tanto li fa... T'ho detto, non ti lasciare la testa. S. Gaspari, 0, 4. Chioccio la Mobot, ma che ho fatto? Allora, lui legge proprio quello che scrivi. Allora, dunque, dunque, dunque. Sì, continuiamo con questo. Vediamo un attimo se c'è qualche altra cosa a disposizione. Allora, questo è qua. Ah, devo vedere un attimo cosa posso sbloccare. Andiamo un attimo. Allora. Allora. Mosin. Questo qua non me lo fa sbloccare. Perché è di fanteria. No. Vabbè. Ritorniamo un'altra volta. Ripartiamo con il nostro paracadutista. Tu che scendi da lassù come una folgore d'acet. Tricche, tricche, l'aria o lampi, scefri, te baccalà. Ecco qua. Adesso siamo in squadra. Ok. Siamo in squadra. Siamo in squadra. Sì. E tunzi, tunzi, e tuzze, e tuzze, e tuzze. Agioni. Poi siamo un poco di... Pum, 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 pum. Metti in sacca un A. Metti in sacca un A. Ecco qua. Allora, mo. Qua. Partiamo con lo slaggio. Anzi, quasi, quasi. Oh, cacca. Spirino. Ah, ecco. Nuo si spira. Oh, ma nessuno... fa l'attacco di G.A.G.U. Vorrei trovare un posto buono per... per poter fare un po' di pumpa. Metti in sacca... Ah, zaccacù. Ah. Andiamo in forza a terrare qua, va bene. Eh, va bene. Mettiamoci in pos... Mannaggia. Uccecchini. Eccolo là, va bene. Va bene. Oh. Poi dicono che... Andiamo. Mi hanno sfidato. E adesso il cecchino. Deve fare caput. Stai da giramane, Piero. Che fai? Mi stai asticando. Ma te magno. Ah, vedi qui c'è. E' tornato il zio da... E' tornato il ceppino e il cecchino. Zuzù. Ah. Ma te faccio vedere gli sorci rossi. Zuzù. Ma sono dolore di panza. Ah, zuzù. Eccolo là. Vieni, cecchino. Cecchino, dove sei? Vieni, vieni. Fa malissimo, pozzo. Fidate i cecchino. Cecchino, dove sei? Quel cecchinazzo. Allora, iniziamo da qui, vai. Allora, vediamo un po'. Dunque, dunque, dunque. Non è proprio il posto ideale. Il cecchino, il cecchino. Allora, stava da... Eccolo là. Andiamo un po'. Iniziamo a fare un po' di... E' buf. Girati, girati. Girati. Aspetta, ho visto. Il cecchino sta là, sta. Eccolo là. Eccolo là. La visuale è ancora occultata. Eccolo là. E vai. Eccolo là. Eccolo là. Che non c'ha... Non è il coraggio di affrontare il cecchino, eh. Vieni cecchino, fammi vedere cosa sai fare. Vieni cecchino, vieni. Dove sei cecchino? Dove sei? Oh, cacchio. Ho visto che... Vieni a dire un po'. Cecchino, dove sei? Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Oggi un po'. Moreno 91, trattino basso, trattino basso, viar. Oui, Moreno. E tunzi, e tunzi, buon salvi e sono di passaggio. Oui, carissimo. Buona... Buongiorno a te. Buongior, buongior. Appena mi... Appena posso ti faccio l'SO. Carissimo Moreno, come vedi c'è Geppino, che è tornato sui campi di battaglia. Geppino, le check-in. Le miglior check-in du monde, le sniper, come dicono le cousin français che ne ti va mangiare. Moreno 91, trattino basso, trattino basso, viar. Non serve, sono fuori a pranzo, ciao a tutti. Ah, ok, ottimo, bravo Moreno, bravo. Così si fa, buon pranzo. Grazie naturalmente per essere passato, divertiti, mi raccomando, non ti preoccupare qua. Che c'è tempo? C'è tempo, c'è tempo. C'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo. Allora, poi vi faccio la shootout a Moreno. Che naturalmente vi invito a passare nel suo canalozzo. Eccolo qua. Vi facciamo gli onori di casa. Le sonore, le sonore, je ne sais pas comment si dice, comunque, je dois tirer sur l'autre... Moreno 91, trattino basso, trattino basso, viar. Ci sentiamo dopo, tunzi, tunzi, faccina che urla di terrore, nuvola con neve, indice che punta a sinistra, mano che saluta, occhi, buona giornata ragazzuoli. Grazie a te Moreno, buon divertimento, magari ci possiamo sentire, non ti preoccupare, divertiti tutta la giornata. Ricordati di quel discorso che abbiamo fatto ieri, eh? Il sabato, libero, volendo domenica. Ehm, eh, divertiti, non ti preoccupare. Poi, quando... Moreno 91, trattino basso, trattino basso, viar. Moreno 14, tunzi, tunzi, novantuno, moreno, moreno, quattordici, banana, novantuno, da blog e tunzi. Cazzo, hai fatto una scioglilingua, hai fatto. Hai fatto una scioglilingua, hai scritto. Vabbè ragazzi, qua ci vuole per forza Geppina, abbiamo capito. Noi Geppina lo mettiamo un poco... Moreno 91, trattino basso, trattino basso, viar. Ciao, a dopo, ex di ora, c'è secondo mano che saluta. Grazie Moreno, grazie ancora per essere passato, buona giornata. Grazie mille, mio amico. E allora vai, vai, vai col cecchinen, ja. Con Geppinen, il cecchinen. E tunzi, tunzi, e lariola, pesce fritto e baccalam. Rarari, rararam. Tuzza, tuzza, e lariola. Lariola. Oh, sta strizzicando. Per l'indice. Che � aâta là. C'è una grinta bambina di bambina. E t utiliz, e t utiliz. Scuciaus en vuoi. Sì Qua la vita lunga va bene Facciamo così Facciamo una partita veloce 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 Al fringualaccio che mi ha fatto E tuzze e tuzze E l'ario là Pesce fitte Baccala Oh no E tuz E tuzze Tuzzi Facciamo lo shootout anche al mitico fanbus Che naturalmente Salutiamo il mitico fanbus Thank you my friend Il mitico fanbus 08 Un nome e una garanzia Ecco qua Come sempre Vi invito a passare Nei canali consigliati Dallo zio d'app Allora 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 ragazzi Voglio direi che Passiamo Scusciamo Quest'altra partitella Poi Trick 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 ceppino dove sei? oh no c'è un altro cecchino di squadra è un altro canso di João Antonio Paolo Samento, il cantante del sentimento una sera con mio amico nella casa di Bahia sentivamo a nava che amorbava il coraçò quando ho tratto amico mio disse dove sta il cielo? io rispondo amico mio come sempre in Fondadeo vai vediamo cosa riusciamo a fare qui allora dove stiamo? quasi quasi metterei andiamo a un'altra 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 Oh, non mi va salire qua su, però non è possibile. No, dai. Vai, estendili, estendili. Ne vedremo delle belle. Eccolo qua, vai. Eccolo qua. 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 Non vale tanto Ci penso a distanza A fregarle Quasi quasi mi ne vado proprio Nel carretto Panzer Abinuti Bine A A A A A A Grazie a tutti. Grazie per il follow. Benvenuto, Anatolik. Oh, welcome, my friend, Moscow. Cheers from Napoli, South Italy. It's my position here. Welcome, thank you, my friend. I have another friend on YouTube. I suppose that he is Russian, but I don't remember. It should be, the name should be... Reviews and tests, something like that. So, welcome, Allura, let's check this new friend. Welcome, Allura. Let's see, let's do this. Okay. Do you play Two Heroes in General 2? I am impassioned by this game. I play this game since just one year. Anatolik ZX. Yep. Okay, so you are impassioned by buying this game. This is an awesome game, but in World Modality you will find... Sometimes you will find... And you can find some cheaters or something like that, But there are a lot of fair gamers, and so this is a quite hard game in World Modality. You will lose your patience during some gameplays. When you are a step two to win and you lose the game. And which kind of soldier do you prefer? Sniper, infantryman, paratroops? And now I prefer this one, this profile, because I unlocked a lot of badges. I have the no chem kill, so if I shoot, I have to be very precise, or I will be spotted by the enemy. And this is the hardnet's hardest part of this game and this profile. And now let's fight. Let's try to fight. This is the same map And now let's go, let's try to do something good. Allora Quelli show up Qui Io quasi quasi кажд improvement Sproud, Si 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 I don't like the commander squad rule in this game, because so fast I have to give a lot of comments I prefer to be free squad free or command not to be a commander you know why because you will hear a lot of time the sound that asked you to give the command 380 350 oh anatolic zx been playing the game since its inception it was fun whenever you unload the bikes were armed with initial rifles oh yeah this is the fastest way to to move on the map bus but where there are when there are the airplane squad you are the the most heated the most heated and so sometime sometimes I prefer to work by foot and not by any any cars using only my foots but you you should move when you want to approach the enemy camp but you have to stay away far away from the their position so you have to to go by foots naturally and so you will need always to to do some in treatment to unlock the physical physical ribbon but it depend about your way to to play if you like to move silently so stealth you should unlock the silent foot movements you will work reducing the the noise that you produce by your foots and if you have a knife a knife you will enjoy this kind of of a badge but it as I say every time it depends about your your way to play and I'm not kind of rainbow or rumble so I prefer doing attacking but not face to face I prefer the but sometimes we need to to do some tactical movements as as we say in as saying military slang so to you have to know very well the maps and how to move into the in the space it always depends about the way you can the way you want to play on the contrary he prefer to play assault okay I'm not too good on assault play but I saw a lot of people that they love to to assault melee kills and so that that's pretty hard for me to to do but I prefer watching the the hardest part of assault I heard some mosin shoots I heard some mosin shoots you can unlock on a mosin sono in una faccia germana ma sto usando un rifle Mosin-Naggen preferisco questo rifle perché è più preciso Anatolyk ZX è buono che il gioco ha messo un ruolo per tutti oh sì, ma i sviluppatori devono fare qualcosa credo che abbiamo bisogno di avere più di una variazione di tre o quattro maps che devono, in mio opinione, dare la possibilità di regolare l'audio volume selectivamente e in questo momento, non possiamo cambiare la musica o il sonno di altre cose che possono distruggere la concentrazione come preferisco a giocare ma questo è solo... questo è solo un opzionale ma preferisco a giocare a giocare in assoluto silenzio e questo gioco ha bisogno di vedere e il risultato 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 ma questo è solo un tipo di entrainment che ci sono molti giocatori in questo gioco ma sono i 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 to 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 be understanding so we are going to end this live streaming i hope you have enjoyed my streaming and i hope to find you soon my friend and thank you so much again for following the channel i don't know if you are on youtube you will find on youtube my channel where you can see and watch a lot of gameplays of viewers and generals sniper leads and other first fashion that's a shooting and farming so you can type i will and let but give you the link if you want i will be very proud and happy to have you to have you in my channel don't worry if you cannot anatolique zx anatoly zx ho imparato solo il tedesco a scuola devo ancora imparare l'inglese iscritto al tuo youtube ah thank you so much uh danke merci beaucoup pour l'inscription à mon canal merci mon ami merci merci beaucoup that's a few french i studied in france in the 1989 1989 yeah in toulouse the school name was called college voltaire as the as the voltage and we are winning this battle and we are winning this battle in train and i hope to win this match this match for example i didn't the german because for me it's so hard to to learn the pronunciation of the words are very very difficult there are a lot of pilots i was reading back your message there are a lot of pilots and the rainbows anatolic zx i francesi hanno numeri molto complessi something like the like the english for example for example if you want to say 89 you have to say to say uh 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 disney so you have to see to say 80 and 19 that's those are the difficult but you have to to know and understand the the way they they talk and so my friend thank you again for the for the following i am just ending my live streaming and so i will talk before in italian for my italian friends and then in english e allora ragazzi approfitto per ringraziare intanto l'amico anatolic zx per aver seguito il canale ringrazio fernbus 08 ringrazio gaspari anatolic zx spasibo za stream spasibo ringrazio ancora andrea biella gaspari moreno fernbus l'ho salutato e quindi noi ci avviamo alla conclusione and so now i will say thank you so much to my moderators to friends that are following my social media channels thank you again to anatolic zx zx for the following thank you so much fernbus 08 sorry thank you so much to my friends gaspari andrea biella and so we are ending this live streaming thank you so much for company i hope you will enjoy my my contents and if you are not a subscriber of my social media channel for you my friend or youtube you will find in the video description the links quindi per voi naturalmente che non siete iscritti al mio canale youtube come sempre vi ricordo che nella descrizione trovate i link per iscrivervi e quindi grazie mille a tutti thank you so much merci beaucoup spasibo and state buono adieu stay good my friend bye bye sound alerts da blogistica 1 ha suonato applausi per zero beats alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio sound alerts i piani bio da blogistica 1 ho bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram www.ipiani.it www.ipiani.it halli